Professoressa, avete presentato questo bel concorso per tutti, insomma, dai sei anni in poi. Ci spiega un po' di che cosa parliamo? Sì, è un concorso letterario con il titolo Il Natale e le tradizioni di Civita Vecchia. Quindi già il titolo spiega di che cosa si tratta. È aperto a tutti, anche alle scuole, quindi possono partecipare i bambini, ma anche gli adulti, fino a che vogliono, parla praticamente delle tradizioni che poi ogni famiglia vive. E quindi diamo libertà proprio di produzione letteraria e ci aspettiamo che il popolo Civita Vecchiese risponda a questo nostro stimolo. Allora le chiedo quanto è importante portare avanti le tradizioni anche attraverso la cultura? Tantissimo, tant'è vero che questo è un evento, un evento letterario, che è all'interno di un altro contenitore, che è la festa del biscottino. E questo proprio perché crediamo nelle tradizioni, ma soprattutto come insegnante per deformazione personale, mi sento di dire che le tradizioni vanno trasmesse ai più giovani, perché poi in fondo fanno il nostro tessuto di vita, per cui sono importantissime. La Book Fasis dimostra di essere sempre vicina a queste iniziative, qui si parla insomma di tradizioni civita vecchiesi. Sì, soprattutto perché si parla anche di tradizioni civita vecchiesi, oltre alla scrittura, che per noi di pari passo con la lettura, che poi è un dramma un po' nazionale, però noi ci teniamo molto alla formazione di scrittori e riuscire a entrare in questo concorso con le modalità che sono state indicate, eccetera, per noi comunque è un obiettivo che viene raggiunto perché possiamo trovare altri che condividono con noi questa passione e quindi, perché no, magari scoprire nuovi talenti, trovare nuove leve e formare nuovi scrittori, augurando a tutti i partecipanti di riuscire ad ottenere un meraviglioso successo prima in questa scrittura e poi anche nella vita.